Buonasera, esiste in Italia un'alternativa al classico Telepass? Assolutamente sì, esiste Unipol Move, l'alternativa di marchio Unipol Sai per pagare il pedaggio ad ostradale, il parcheggio nelle principali città e nei principali aeroporti. Il tutto è gestibile da una semplice e intuitiva app, appunto, app Unipol Move. E tu lo sapevi?